Samitesi, buongiorno. Purtroppo per la nostra cittadina il Natale è stato rovinato da brutte notizie riguardanti la salute di diversi concittadini. Quella di oggi è una comunicazione urgente, dettata da una notizia straordinaria che ci ha colpiti tutti la mattina di Natale. Il sindaco di Bisceglie è stato colto da malore nella propria abitazione ed è stato sottoposto urgentemente alle cure mediche del nostro ospedale. Nel corso della giornata le sue condizioni si sono aggravate, tanto da rendere necessario il ricovero in terapia intensiva e poi il trasferimento all'ospedale di Porinenone. La giunta comunale in costante contatto con i familiari si è riunita per valutare la situazione e assumere i provvedimenti del caso e a col tempo sono stati prontamente informati la Presidente del Consiglio Comunale e tutti i capigruppo e le altre istituzioni. Già nella tarda serata di ieri siamo stati informati che il quadro clinico si era fatto più incoraggiante, una situazione confermata questa mattina in seguito all'interiori accertamenti a cui il sindaco è stato sottoposto, che hanno anche escluso il contagio da Covid. In accordo con i familiari, sentito il dottor Tommaso Pellis, direttore della struttura complessa di anestesia e rianimazione di Porinenone, vi informo che le condizioni del sindaco sono in miglioramento, tanto da aver permesso il suo trasferimento dalla terapia intensiva. Ci sentiamo dunque di esprimere un cauto ottimismo. Io personalmente la giunta ce ne rallegriamo sapendo di interpretare il sentimento unanime di vicinanza di tutte le sambitesi e i sambitesi e non solo. In queste ore sono giunti davvero tantissimi messaggi di vicinanza per il sindaco e per la sua famiglia, mostrando una volta in più come questa comunità sappia unirsi per far fronte comune nelle situazioni di difficoltà. Volevo rassicurare che continueremo a monitorare la situazione e a garantire ogni atto e provvedimento necessario alla continuazione dell'attività dell'amministrazione comunale. Interpretando lo stesso volere del sindaco, confermiamo gli impegni in agenda a partire dalla riunione di giunta convocata per lunedì 28 dicembre, così come per il Consiglio comunale di mercoledì 30, che si riunirà per assumere importanti provvedimenti, primo fra tutti l'approvazione del bilancio di previsione. Sono indubbiamente giornate difficili per la nostra comunità, il clima della festa è spesso guastato da brutte notizie che ci creano inevitabilmente apprezzione perché colpiscono i nostri effetti, ominano la nostra quotidianità e quindi le nostre certezze. Ed è in momenti come questi che è fondamentale la coesione di tutti noi. Auguriamo ad Antonio di rimettersi al più presto e conoscendolo non mi stupirei nemmeno di ritrovarmelo pronto e combattivo già al prossimo Consiglio comunale. Nel frattempo noi continueremo ad operare per rendere sempre migliore la nostra cittadina. Caro sindaco, ti aspettiamo. Auguriamo a te e a tutte le persone che in questo momento stanno vivendo la propria battaglia di tornare al più presto. La nostra bella San Vito ha bisogno di tutte le sue forze migliori. Nel salutarvi vi auguro veramente di trascorrere queste festività circondati dall'affetto dei vostri cari, che si può sentire anche se sarete distanti e che il nuovo anno ci possa portare la serenità di cui abbiamo tanto bisogno.